La pace è l'obiettivo cui aspirano le persone e le società. Lo ha ribadito Papa Francesco nel discorso a un gruppo di ambasciatori non residenti ricevuti giovedì. Sono gli ambasciatori di Svizzera, Liberia, Etiopia, Sudan, Giamaica, Sudafrica e India. Occorre impegnarsi contro il commercio delle armi e le immigrazioni forzate. Due temi collegati, ha detto, perché le immigrazioni sono provocate dalle guerre e dalle violenze armate. Serve un nuovo impegno, soprattutto di fronte alle immigrazioni. Vicende che ci fanno piangere e vergognare. La Santa Sede ribadisce che non si possono proclamare i diritti umani senza farsi carico di uomini e donne che, costretti a lasciare la loro terra, muoiono nel tentativo o non sono accolti dalla solidarietà internazionale. La Santa Sede dichiara oggi a voi e ai governi dei vostri rispettivi Paesi, ha detto il Papa, la sua ferma volontà di continuare a collaborare affinché si compiano passi in avanti su questi fronti e in tutte le strade che conducono alla giustizia e alla pace sulla base dei diritti umani universalmente riconosciuti. Grazie a tutti.